Sarà forse la notorietà del locale, parliamo del Pineta, un simbolo della riviera romagnola, ma un'indagine piuttosto datata ha avuto un clamore mediatico estivo, forse eccessivo. Coinvolge due retini, lei ne rappresenta legalmente uno. Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, però va contestualizzato. Si tratta semplicemente di una normale e comune nel settore indagine degli organi di vigilanza ispettiva, quindi Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, rispetto all'attività del locale. Sono state contestate alcune fatture supposte come inesistenti, rispetto alle quali invece la gestione della discoteca del locale si sente tranquillamente di affrontare un contraddittorio nelle sedi opportune per dimostrare la regolarità e esistenza delle operazioni. Si tratta di un equivoco, francamente, che ha assunto proporzioni fastidiose, ma non è neanche il primo. Non ci scordiamo che l'anno scorso toccò al papete essere inquisito per anche lì una problematica di sequestri giudiziari, evasione fiscale piuttosto importante. Ma perché tanto clamore, anche ritardato, visto che l'inchiesta è di due anni fa, si è conclusa qualche mese fa, avrà la sua evoluzione processuale a novembre, quindi perché è scoppiata nel cuore dell'estate? Questo non lo saprei dire, forse è la pruderie di fare un po' di gossip anche sul mondo dei locali. Quello che posso tenere a precisare è che l'attuale gestione del Pineta non è quella sotto indagine, è stato rilevato e trasferito a un'altra società che ne prosegue la gestione in maniera solida e ha anche un ottimo calendario artistico per l'estate.